Il cuoio, poi c'è anche un po' di ferro, dunque uno spaccato eccezionale della vita quotidiana, del lavoro quotidiano di una parte della popolazione antica che è poco nota attraverso le fonti ufficiali che sono sempre o quasi sempre dal punto di vista dell'elite e qui invece vediamo la vita di persone, di schiavi, di servi, di persone di uno stato sociale molto basso. Almeno tre persone, ci sono tre letti brandine estremamente semplici, di una tipologia poco nota, quindi possiamo immaginare qua i servi di schiavi che lavoravano in questi spazi venire a dormire la sera e due letti sono un po' più grandi, sono 1,70 m, quindi delle persone adulte, uno è più piccolo, 1,40 m circa, dunque possiamo immaginare per una bambina, un bambino, forse per una piccola famiglia di schiavi, ma non lo sappiamo. Sappiamo però che era sicuramente una vita precaria in queste condizioni.